E' un nuovo impulso importante quello che arriva al mondo dell'agricoltura dalla convenzione che è stata stipulata tra la Credita Agri, l'ente di garanzia Fidi del sistema Coldiretti e le casse di risparmio dell'Umbria. Una convenzione, un accordo che è stato sottoscritto e presentato in una conferenza stampa. Eravamo presenti con le nostre telecamere e tra poco vedremo il servizio e sentiremo le interviste di alcuni estensori di questo accordo. Un accordo che prevede un plafondo di 6 milioni di euro a sostegno delle esigenze finanziarie delle imprese del settore agricolo nella nostra regione. Certamente un'iniezione sostanziale in un periodo difficile soprattutto per il finanziamento delle imprese. Un'offerta di finanziamenti a breve e medio e lungo termine assistiti dalle garanzie proprio di Credita Agri Italia, appunto l'ente di garanzia Fidi di Coldiretti. Coldiretti sempre protagonista nell'iniziativa, l'abbiamo visto anche la scorsa settimana con lo speciale dedicato all'Oscar Green, ai riconoscimenti per le imprese guidate dai giovani imprenditori e che ora torna protagonista stavolta sul piano dei finanziamenti. Allora vediamo il servizio con le interviste a cura di Noemi Campanella che appunto riguardano l'approfondimento di questo tema e di questo accordo dalle parole di Roberto Grass, direttore generale di Credita Agri Italia e di Vanni Bovi delle casse di risparmio dell'Umbria. Imprese agricole, agroalimentari e cooperative locali Umbria da oggi e per tutto il 2014 vedranno favorito il loro accesso al credito grazie ad una convenzione stipulata tra Credita Agri Italia e casse di risparmio dell'Umbria. L'accordo prevede prodotti dedicati al comparto agricolo realizzati con una sinergia tra l'ente di garanzia Fidi del sistema Coldiretti e la banca del gruppo Intesa San Paolo grazie ad un plafond complessivo di 6 milioni di euro. A Perugia la presentazione all'hotel Brufani con gli interventi dei direttori generali di Credita Agri Italia Roberto Grass e casse di risparmio dell'Umbria Vanni Bovi insieme al presidente della Coldiretti Umbria Albano Agabiti che ha sottolineato come Coldiretti sia stata il collante di questa convenzione. Con l'accordo sottoscritto le imprese socie del Confidi pertanto potranno avere accesso a condizioni riservate e nuove linee di credito grazie alle garanzie di Credita Agri. I finanziamenti concessi dalla banca saranno assistiti dalla garanzia di Confidi fino al 50% dell'importo finanziato. La modulazione dei tassi che vanno dal 3 al 5,5% sarà in base al reddito attribuito all'impresa. In particolare le fasi che vedranno coinvolte le imprese che decidono di accedere al plafond di credito finito il quale ha annunciato Bovi ne richiederemo subito uno nuovo vanno dalla presentazione dell'istanza agli uffici della Coldiretti all'istruttoria con determina di garantabilità fino alla delibera della banca. L'assessore regionale all'agricoltura Fernanda Cecchini presente in platea dopo aver sottolineato l'importanza dell'accordo ha ricordato che la bozza del piano di sviluppo rurale per i prossimi 7 anni è stata appena ratificata per far ottenere al mondo agricolo Umbro risultati concreti anche a fronte di sfide complesse. Firmeremo un protocollo di accordo dove Cassa di Rispermio dell'Umbria metterà a disposizione un plafond da 6 milioni di euro a favore dell'agricoltura, a favore degli associati della Coldiretti e con Garanzia Credit Agri che è una garanzia molto forte ci aiuta a concedere più credito a tutte quelle aziende agricole che continuano a investire in un settore che noi consideriamo primario un settore che garantisce occupazione e che di fatto è un pilastro portante dell'economia della nostra regione quindi 6 milioni di euro in più direi che sono un'inizione importante nell'ambito del sostegno finanziario alla crescita del mondo dell'agricoltura. E Cassa di Rispermio dell'Umbria, Gruppo Intesa San Paolo è di fianco a Coldiretti e Credit Agri in questa nuova iniziativa. Il tessuto imprenditoriale agricolo è un tessuto molto attivo, fibrillante sotto ogni punto di vista sia per quanto riguarda il pil sia per quanto riguarda l'incremento degli impieghi destinati ad investimenti strutturali. L'accordo che battezziamo oggi come Creditalia Coldiretti e il Gruppo Intesa attraverso Cassa dell'Umbria permetterà alle imprese di beneficiare di una prima tranche di plafondi 6 milioni di euro destinati prevalentemente ad investimenti in capitale agrario e in capitale fondiario.